Grazie a tutti, ciao ragazzi, benvenuta, grazie, prego, grazie a voi Benvenuta, grazie per essere con noi, è qui a Roma per presentare questa docu-serie Siete tutti paralizzati, hi, hi, hi Sì, gli occhi, gli occhi più belli di Hollywood, ma più belli del mondo, credo Per presentare questa docu-serie che si chiama The Last Movie Stars, le ultime stelle del cinema Perché ovviamente Melissa è figlia non solo di Paul Newman, ma anche di una grandissima Joan Woodward Che peraltro è ancora viva, quindi le rivolgiamo un pensiero davvero molto molto affettuoso Melissa, chi era papà? È una domanda piccolissima, qual è il modo semplice per iniziare? Va, vediamo Era tante cose diverse, io dico sempre alle persone che innanzitutto guidava in maniera pericolosa Era impegnato politicamente, era un attivista, era un nonno fantastico, anche un padre fantastico Complicato sicuramente, i miei genitori naturalmente erano delle star di Hollywood difficili, complicate come persone Però erano i miei genitori, bevevano insieme il caffè al tavolino e mangiavano anche il pane grigliato come le persone normali Quindi semplicemente dei genitori E peraltro so che sei nata a Hollywood, ma a un certo punto la famiglia si trasferisce nel Connecticut Proprio per una vita più semplice, insomma meno contaminata forse dalle follie hollywoodiane Vediamo una clip di immagini di Paul Newman, tante volte qualcuno, cioè nessuno, se lo fosse dimenticato Perché vederlo era amarlo per sempre Blue eyes Baby's got blue eyes Like a deep blue sea On a blue, blue day Blue eyes Blue eyes Baby's got blue eyes When the morning comes I'll be far away And I see Blue eyes Blue eyes Holdin' back the tears Oh, lovely Bellissimo Peraltro è in uscita anche un libro che è una sua, anche in Italia, una sua autobiografia postuma Che si intitola Vita straordinaria di un uomo ordinario Dove c'è anche la tua prefazione E Melissa scrive del padre Paul Newman sospettava di essere un impostore Un uomo ordinario con un viso straordinario E la fortuna dalla sua che aveva raggiunto molto di più di quello che si era prefissato Nella serie di documentari sono sei puntate, veramente bellissimo Anche perché c'è a Hollywood, ci sono i film, le testimonianze, ci sono attori che raccontano C'è George Clooney che dà la voce al racconto di Paul Newman, eccetera Nel docufilm appunto si racconta proprio di questo tema della fortuna di Paul Cioè ad esempio lui era dal tonico Durante la seconda guerra mondiale riesce a schivare un attacco dove sarebbe morto Ecco, ma davvero lui pensava che tutto quello che aveva ottenuto non fosse suo merito Ma fosse appunto derivante da un caso? Credo che ci sia sempre un problema di fondo Era una sorta di scherzo, di battuta che faceva Diceva che l'epitaffio sulla sua tomba doveva dire Questo è un uomo, qui già c'è un uomo che è morto per un fallimento Perché praticamente era dal tonico Credo che voleva essere un po' un personaggio Voleva essere noto come attore Famoso per essere un attore Se andiamo a vedere tutte le immagini di mia madre Lei è completamente diversa Invece mio padre non riusciva a sfuggire al proprio volto Se andiamo a guardare quello che ha fatto come attore Lui ha scelto tutte delle parti che gli consentivano Di interpretare personaggi che non potevano essere salvati Riscattati Che erano divertenti, strani Ma non voleva essere soltanto il bello È una cosa contro lui, contro cui lui combatteva E la cosa meravigliosa del film è che riuscite a vedere Dei pezzi, delle parti, dei vari film Quindi si vede un po' la traiettoria che lui aveva scelto Il percorso che ha seguito E anche mia madre Quindi avrete un'idea del fatto che lui contrastava Questo essere un solo personaggio Ora veniamo anche a Joan C'è un'altra cosa che mi incuriosisce di papà Il suo rapporto con i genitori Lui era nato nell'Ohio, in provincia Da una famiglia di commercianti di articoli sportivi E a un certo punto lui dice Non riuscivo a trovare del romanticismo nel commercio Così ho iniziato a recitare E aggiunge Stavo scappando da qualcosa Non stavo correndo verso qualcosa E la figura della mamma Che è molto importante di tua nonna Perché lui la descrive come Una donna molto soffocante E anche con delle forme tra virgolette di cattiveria quasi Perché lui a un certo punto ha un fratello Che non era bello come Paul E lei dice che appunto veniva trascurato In effetti il fratello era anche molto bello La cosa interessante è che aveva delle caratteristiche molto simili a lui Organizzate in maniera un po' diversa E in una sala avreste detto Ma guardando Ma che uomo bello Però chiaramente Lui era un Invece mio padre era un unicorno È veramente incredibile Una bellezza straordinaria L'avere avuto una mamma Poi il papà soffriva di alcolismo Racconta sempre nel libro Secondo te come ha influito Nella sua modalità Anche di darvi amore A voi figli? Non è una cosa insolita È un uomo di quell'epoca Aveva sempre una birra in mano Non c'è nulla Non ci sono sorprese qui Per me era un padre adorabile C'era qualche problema Ma a volte era un po' distante sicuramente Ma la cosa favolosa è che come nonno E i miei figli Sono loro Anche loro In questi documentari Come nonno È stato favoloso Non c'è stato nulla di più Meraviglioso Di vedere Paul Newman Insieme al proprio nipotino Di tre anni Che giocava a carte Ma qual era la domanda? Ho dimenticato il filo Comunque lui poi è migliorato In qualche modo Nella sua vita Anche di apertura Forse verso L'affettività Ho capito quello che vuoi intendere Sì Voleva sicuramente evolvere E c'è stata questa evoluzione Nella sua vita E il lato personale Di questa evoluzione Sicuramente Si vede anche poi Nel suo lavoro Il suo film di maggior successo Probabilmente è The Verdict Il film in cui Di cui lui era molto orgoglioso Si vede proprio Tutta la sua traiettoria Lì Il Verdict Il Verdict Il verdicto di Sidney Lowe Bellissimo E anche Con emozioni molto profonde Con una recitazione profonda Vediamo come Meryl Streep Parla di Paul Newman Ricordo molto bene La prima volta Che ho visto Paul Newman Avevo 12 Forse 13 anni Quando ho visto Questo bellissimo uomo Nel film Exodus Ho pensato che fosse L'uomo più bello Che Dio avesse creato Sembrava veramente Un Dio L'ho seguito Nella sua carriera Ed ho ammirato Questa persona Straordinaria Che ha dedicato La sua vita al cinema Ma anche a fare del bene A condividere Le pene Dei diseredati L'ho conosciuto Quando ho lavorato Con lui In questi ultimi anni In occasione Di uno spettacolo Di beneficenza Una parodia Di My Fair Lady E ne sono rimasta Incantata E' stato un attore Come pochi E' stato un uomo Straordinario Una persona generosa Che ha dedicato La sua vita A rendere Il mondo migliore Non ho potuto Seguire l'originale Però ho sentito l'idea E' stato un uomo E' stato un uomo Che ha deciso Di dedicare La sua vita A altri E' stato un uomo E' stato un uomo E' stato un uomo E' stato un uomo Perché non parla Perché non parla nessuno Inghilese in Italia Perché sono italiani Ecco perché Ed è una lingua bellissima Allora perché dovrebbero Parlare inglese Perché dovrebbero preoccuparsene Senti ma una giornata tipica A casa Newman Woodward Qual com'era? Quando erano in casa Ovviamente non sul set Quando crescevo in quella casa Ecco mia madre Sava al mattino Per la scuola Preparava il cibo Andavamo a scuola Quando mio padre era a casa Cuginava molto Mia madre Mio padre Era lui che si occupava Della cena Spesso Mia madre faceva Tutto con le uova E' fantastico Che non siamo morti Perché Mia madre faceva Omelette La salsa landese Il soufflé Di formaggio Il french toast I pancake Mio padre invece faceva Bistec e hamburger Questa era la dieta Ma mia madre Poi era fissata Con le vitamine Moltissime vitamine Oppure anche L'olio di fegato Di merluzzo Insomma questa è robaccia E poi Tutte queste cose Era mia madre Che gestiva chiaramente La casa E la famiglia Oltre a essere Una star del cinema Poi guardiamo il film Esatto Il film è anche molto chiara Questa cosa Che è molto anche interessante Da raccontare Perché Joan E' una donna Determinatissima Cresciuta sola Con la mamma Che fin da bambina Voleva fare Non soltanto Lei non dice Io non volevo fare L'attrice Io volevo essere Una star No? Esatto Proprio così Sì lo so Tant'è che lei Vince Vince l'Oscar Ben prima Di Paul Cioè lei forse Era quasi più famosa Del marito Peraltro lui aveva Una prima moglie Con dei figli Lei è molto tosta Anche su questo E a un certo punto Cioè lei ha dovuto Rinunciare al suo lavoro Per voi figli Perlomeno questo Passa nel film Joan Beh in realtà E' un po' Un mito In realtà Lei ha continuato A lavorare Sul palco In un teatro Gestiva una compagnia teatrale Insegnava recitazione Ad esempio Un'attrice Sally Sonjeni Ha vinto un Oscar Grazie a mia madre E amava insegnare Amava anche Lavorare come regista Amava i giovani Gli attori Quindi oltre alla tua attività Nella famiglia Continua a fare Tutte queste cose E ci sono due cose In particolare Prima di tutto Per lei Per il suo Oscar E' lei che ha creato Il suo vestito Con la macchina da cucire Si vedono delle foto Delle immagini Di mia madre Che è lì che cuce Non poteva permettersi Un vestito Ma soltanto il tessuto E la giacca E tutto il resto E quindi creava Anche dei vestiti Per noi Delle felpi Era straordinaria E mio padre Invece ci ha insegnato A guidare E ti ha insegnato A cucire La mamma Joan Ti ha insegnato A cucire Oh yeah Brava Sì in effetti La sciarpa Che è terribile A cucire Però sono stata lì Tutta la notte A cucire Questa sciarpa E mio padre Ho detto Scusate Mio marito diceva Ma vieni a letto Sì sì Ho imparato Comunque A cucire Non ero brava Come lei Non sono mai diventata Come lei Cose più semplici Li vediamo insieme Paul e Joan Sì 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 Sous-titrage ST' 501 Nel film c'è anche un passo nel quale Joan dice Quando ero giovane volevo recitare e non ho permesso niente di ostacolarmi Fino a quando sono arrivati i bambini, spero che loro capiscano che sebbene io li ami incondizionatamente, se dovessi rifare tutto da capo forse non farei figli, gli attori non sono dei bravi genitori. Lei avvertiva il senso di colpa di dover sacrificare voi per recitare e sacrificare la recitazione per voi, questo dice? Credo che ci siano molti genitori che in realtà si sentono in quel modo molto spesso. Il produttore del film, Emily Wattkell, è una delle produttrici del film è cresciuta con la nostra famiglia, quindi mia madre è stata non soltanto una madre per me ma per così tante altre persone. Capisco sicuramente questo sentimento, però non rifletteva la mia esperienza. In effetti ho letto in una lettera che lei diceva mi sento così vicina alle mie figlie, forse sono troppo vicina. Quindi qualunque genitore comprende quel tipo di sentimento. Hai evocato la produttrice del film, adesso vediamo una clip e poi entra anche lei. Ciao, ciao. Benvenuta a Emily Wattkell, produttrice e amica di famiglia. Hello, grazie. There you are. There you are, sì. She is. Quest'altra cosa è molto bella, scusami Emily, perché l'ho sentita anche nel film, che Paul diceva di essere una creatura di Joan. Cioè, lei diceva che appunto era stata tua mamma, sua moglie, a insegnare, incoraggiare, le piaceva sperimentare, sono solo una creatura di sua invenzione. Paul, rispetto a tua mamma? Sì. Penso che... Quello che si vede nella clip, proprio quello che dicevo, il fatto che mia madre era una madre di tante altre persone, era anche bohemian, è stato un artista sin dall'inizio, e come dicevi, sicuramente aveva una... era cresciuta in una famiglia borghese. Gli ha dato un po' un modello, perché era uno spirito libero. E lui cercava proprio questo. E quindi lui l'ha seguita, l'ha seguita in questa direzione. Sono stati... Peraltro, tu racconti che sono molto... Cioè, erano molto passionali loro, loro due insieme come coppia, no? Avevano due porte per la stanza... Perché due porte per la stanza da letto? Questo non lo so. Perché qualcuno dovrebbe avere due porte, nella stanza da letto? Passionali, cioè, tu li vedevi baciarsi, si tenevano per mano, definisci passionali. È quello che faceva lui. Si avvicinava a mia madre e faceva proprio questo. Ecco, in questo modo. Semplicemente, ecco, la toccava in questo modo. Tutto il tempo, continuamente. E anche il suo rispetto per lei come attrice, era un po' il collante. Essendo un attore, ecco, lui pensava a mia madre come qualcuno a questa altezza, per sempre. E tutta la vita ha cercato dei progetti per dimostrare alle persone quanto era fantastico a mia madre. E nella serie di documentari, ad esempio Rachel Rachel, lui adorava fare da regista nei film dove lei recitava. E si trovava dei progetti, questo fa parte proprio dell'essere appassionate, no? Di questa passione, questa specie di fiaba, questo matrimonio fiabesco. C'è qualcosa di inesorabile nel loro rapporto. E credo che è l'unica persona che lui voleva veramente insieme a lui, specialmente quando stava per morire. Peraltro questo punto, Emily, è un punto molto bello, come ha raccontato Melissa, perché tu dici... Perché lì succede una cosa, a Joan viene diagnosticato l'Alzheimer, no? E nove giorni dopo la diagnosi di Alzheimer di Joan, il medico dice a Paul che lui ha un cancro terminale. E lui fa questa cosa, sale di nascosto in cantina e mette nella calza di Natale di Joan la sua bussola, in modo che così lei possa avere un regalo anche se lui non c'era. Cosa ricordi di quegli ultimi giorni, insomma anche della morte di papà, che eravate tutti con lui, no? Noi viviamo accanto a loro, ci siamo trasferiti lì vicino. C'è un fiume con un ponte, i miei figli possono fare avanti e indietro tra le due case. E mio figlio ha passato molto tempo con lui, fino alla fine, cosa straordinaria. E penso che... ho sempre creduto che mia madre non potesse vivere senza mio padre. È una cosa triste, e sarebbe stata triste, però pensavo, beh, in fondo è una persona forte. Però ho sempre pensato che mio padre non avrebbe sicuramente potuto vivere senza di lei. Non ce l'avrebbe fatta. È stata la provvidenza, in un certo senso, che sia che tutto al contrario. Perché mia madre poi in realtà appunto è incredibile, è forte, è ancora una donna sorprendente. Allora, rivediamo un'altra slide di immagini di Polla. Allora, rivediamo un'altra slide di immagini di Polla. Allora, rivediamo un'altra slide. Stavo guardando queste immagini e penso... Ci sono così tanti film di Polla che non ho visto, cosa scioccante per le persone in genere. Non penso di aver mai visto Exodus, tra i film che non ho visto. Parlando di questo, tutti quegli spezzoni dei film che troviamo nel documentario mi ispirano a vedere molti dei film che non ho visto. e spero che farà lo stesso con altre persone. È stata lei che ha avuto l'idea del progetto. Complimenti, peraltro, alla regia di Ethan Hawke. E anche, mi sembra, coprodotto da Scorsese. È veramente un lavoro bellissimo. Mi sorprende... La prima domanda che ho fatto a Melissa... Sì, dottore esecutivo. Mi sorprende come Paul considerasse se stesso un impostore. Cioè, alla fine non pensasse di essere anche, oltre ad essere bellissimo, quel grande attore che era. Tu che l'hai conosciuto, era davvero così? O era una posa? No. Era la persona più organica che si possa incontrare. Non era consapevole di come appareva. Non capiva bene perché le persone reagivano in quel modo quando lo vedevano. Però in qualche modo seguiva il flusso. Lui è diventato un attore e quindi il suo aspetto, come dice nel film, da un lato è stata una maledizione, ma dall'altra... Dove sarebbe poi finito se non avesse avuto quell'aspetto? Quindi diceva, vai in fondo, è stata una sorta di miniera d'oro. Quindi, insomma, molto anche, diciamo, si prendeva in giro anche un po' sul fatto dell'aspetto fisico e non si considerava affatto... Sì, esatto. Non si considerava affatto un oggetto, insomma, un uomo sexy, tant'è che lui diceva, aspetta, ecco, la gente può vedermi come un oggetto sessuale quando sono sullo schermo, ma se mi incontrassero dal vivo con queste aspettative e quel livello di interesse sessuale si abbasserebbe ogni minuto che passa. Ma come? Aveva un grandissimo senso dell'umorismo, per quanto riguardava proprio se stesso, fantastica. E la stessa cosa anche Joanne, perché in realtà era una cosa che alimentavano in maniera, cioè a vicenda. E a proposito del loro rapporto, c'è una frase famosa, no? Quando chiesero dei tradimenti a Paul, lui rispose, perché devo cercare un hamburger se in casa ho una bistecca? E Joanne però rispose in un model, Joanne dice questo, io sono vegetariana. Quella frase avrebbe potuto chiudere il nostro rapporto, non sono un pezzo di carne, ogni volta che esce quella citazione voglio farla finita, è vero? Ma è una di quelle cose, beh lui chiaramente scherzava molto, cercava di essere divertente, in realtà quella volta ha fatto un po' una sorta di gaff, è stato abbastanza maldestro. E litigavano? Sì, sono attori. Come dicevamo, c'erano due porte nella stanza a letto per una serie di motivi. Due porte, potevano quindi litigare e poi potevano far pace, no? E Joanne era un'attrice davvero fantastica. Se era arrabbiata a casa, c'era un figlio, voi entravate in casa e sentivate chiaramente una sorta di schermo. E anche quello che succedeva che mia madre, quando litigavano, che mia madre era così brava come attrice, che io pensavo, come una persona può essere così, parlare di così tante cose quando è così arrabbiata? E la risposta è, citava da Tennessee Williams, faceva delle citazioni, parlava tantissimo, era super eloquace. E quindi crescendo io pensavo, ah, incredibile. E entrambi lo facevano, parlavano così tanto. Certo, perché erano attori. Ma poi c'era la stangata, no Memo, com'è che ci ha accompagnato per... La mia preferita. La tua preferita? Tuo film preferito? La scena è una scena della stangata. C'è poco che si diverte a fare un po' lo sciocco, diciamo, su se stesso. Robert Redford dicevano, ci buttavamo a terra a vicenda per tenerci umili. Ma come hai fatto a innamorarti con un papà così bello? A trovare un uomo alla sua altezza? Anche per me è stato un grande amico. Quando era sul sedice, ma che speranza ho di trovare qualcuno come lui? È un uomo davvero bellissimo. In realtà ho cercato una sorta di migliore amico. Proprio come i miei genitori, perché loro in realtà erano amici molto stretti. A volte, chiaramente, quando sei con il tuo migliore amico, si litiga. Sicuramente ai miei genitori è piaciuto molto mio marito. È un insegnante di scuola, insegna ai bambini di dieci anni. È perfetto per me. Pubblicità e poi c'è un'altra sorpresa delle techerai. Do you like our sound? Sì, vabbè, parlo in inglese adesso. Vi piace la nostra sigla? Sono un po' seduta da tre lingue. E una ci presenteremo a ballare. Va bene. Siamo qui parlando di The Last Movie Stars, Le Ultime Stelle di Hollywood. Paul Newman e Joan Woodward. C'è anche George Clooney, no? Innanzitutto, The Last Movie Stars sarà trasmesso su Sky a dicembre. George Clooney. Quando parlavo con Ethan Hawke, il regista, su chi avrebbe letto la voce di Paul Newman, è una voce difficile da leggere. Quindi volevamo qualcuno che avesse il peso di Paul, ma non necessariamente avrebbe finto di essere Paul Newman. Quindi l'unica persona che ci è venuta in mente è stata George Clooney. E ho chiesto. E lui ha risposto di sì. E ha detto, wow, George Clooney sarà lui a leggere la voce. È davvero molto bravo. Quindi questa è una cosa che... L'altro produttore, Adam Gibbs, che è con noi qui oggi, mi dice che io miro sempre troppo in alto, ma è una cosa che ho imparato proprio dai tuoi genitori, dai Newman. Quanto li hai frequentati? Non voglio tradire, non voglio raccontarvi la mia età. Mi sono stata la migliore amica della sorella più giovane nel momento che avevo due anni. Ecco, il motivo per cui sono diventata una produttrice è sicuramente proprio questo. E penso anche che il mio gusto è stato influenzato da loro. Vorrei pensare anche questo. Purtroppo è morto prima che io facessi il mio primo film. Ma prima che morisse, mi ha dato dei consigli tutto il tempo. Di cui io faccio un grande tesoro. Ti chiedevo questo perché sei un aspetto molto giovane per cui per questo ti ho fatto la domanda. Non è un complimento, ma è vero, sei giovanissima. Di una cosa non abbiamo parlato. Melissa, ma fu un dolore enorme per... Non troppo simpatica. Ancora. Cibo, acqua e complimenti. È tutto quello che vogliamo. Cibo, acqua e complimenti. Questa me la rivendo. Melissa, volevo ricordare però con te quello che è stato probabilmente il dolore più grosso della vita di papà e della morte del tuo fratello figlio della prima moglie di Paul, morto per overdose Scott. Nel doc lui dice non conto le volte in cui mi sono messo in ginocchio per chiedergli scusa, per aver creato l'inferno che lo ha divorato. voglio prendermi la responsabilità di tutto questo. Papà si sentiva responsabile della morte del figlio? Penso che in effetti la sua prima moglie abbia detto che le persone sensibili non vivono bene in questo mondo. Era un bambino molto sensibile. Se c'è una lezione che si può apprendere qui è anche il motivo per cui in realtà ci sentiamo a nostro agio a condividere questa storia che dimostra ad altre persone che a prescindere da quante risorse hai tutti chiaramente erano in grossa difficoltà in quella situazione, affondavano tutti facevano del proprio meglio ma a volte non è possibile non ce la si fa era una situazione particolarmente difficile e questo è comprensibile ma così tante altre persone vivono queste situazioni e a volte non si trova una risposta. Paul Newman intervistato da Gianni Bisiac lo vediamo. Signor Newman secondo un'opinione diffusa gli attori dell'Actor Studio imitano tutti Marlon Brando e sono piuttosto snob e cerebrali lei cosa ne pensa? Beh, penso che la maggior parte delle persone che sono responsabili della cattiva fama dell'Actor Studio non vi hanno mai studiato. Direi che sono degli imitatori. Lei consideri i record dei buoni attori che ha l'Actor Studio e che comprende Marlon Brando Geraldine Page Kim Stanley Anthony Franciosa Ben Gazzara Giulia Harris voglio dire un elenco di nomi veramente eccezionale nel teatro. Per quanto mi riguarda io devo dire molto francamente e onestamente che l'Actor Studio deve prendersi i biasimi per quanto ho fatto come attore ma deve anche prendersi i meriti. Le crede ad avere ancora qualche cosa da imparare dall'Actor Studio? Oh sì, sì. Anche ora frequento un corso all'Actor Studio voglio fare Shakespeare comincio a lavorare su Shakespeare veramente. Lì ai corsi non tengono conto della notorietà ma di quello che uno vale e io vado lì a perfezionarmi professionalmente. Io ho lavorato sugli archivi ma non ho mai visto quell'intervista. Bravo! Brava Franca bravi i nostri ricercatori chi l'ha trovata questa? Poi me lo dici favoloso visto? A questo punto la vorremmo vedere tutta andremo a cercarla. Adesso ci siamo conosciuti ci scambiamo il telefono vogliamo andare al pianoforte a sentire un po' di musica perché papà Paul suonava no? Sì sì suonava un po' il pianoforte. Vieni con me Ma è vero che c'era questa rivalità con Marlon Brando che lui si sentiva sempre inferiore a Marlon Brando? I'm not going to go there Ti schede di non be quiet cioè le puoi dire di perdonare la mia pronuncia anche io sono una cantante Come on Melissa Emily come with me Cosa devo fare io? Io non canto Siamo tutti innamorati Serena non ci stiamo capendo nulla Abbiamo entrambi gli occhi azzurri Melissa So you can come up here So we are near the piano Welcome Melissa Degeno di qui Oh my gosh Thank you Thank you And the living needs his aid Fish are jumping And the curtain The curtain is high Your dad is rich Your dad is rich And the man she's good looking So hush Little baby Don't you cry Grazie a me Grazie a voi Grazie Melissa Grazie Emily E Melissa Emily Vi presento la nipote di Tyron Power Grazie a te Grazie a te Grazie a te Grazie a te Oh Oh Felicità Linda Christian ovviamente Uh oh Oh Noi Perussevamo Tyron Power Junior Sono padreni Era nella lezioni di recitazione di tua madre Ok seri scatta un aperitivo Ok Grazie per essere stata con noi qui in questo programma. Grazie davvero. Andate a vedere il film, andate a vedere il documentario.